Sole e caldo, Ferragosto con i fiocchi sul mare abruzzese, si prevede il tutto esaurito. Padovano, il caso di dire era ora, dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, dopo tanti problemi, tante preoccupazioni. Finalmente a Ferragosto anche i balneatori potranno vedere le loro spiagge piene di bagnanti. Sicuramente abbiamo avuto negli ultimi dieci giorni una richiesta di prenotazione notevole. Era da anni che non si ripeteva la presenza di queste richieste di prenotazione a parte delle persone che vogliono venire al mare. E' chiaro che questo ha avuto un effetto legato al fatto che fino a due mesi fa c'era molta incertezza se andare in spiaggia, se stare a fare il bagno insieme ad altri. Comunque facciamo tutto questo sempre nel rispetto del distanziamento da parte delle persone, con il rispetto dovuto dal protocollo che è stato emanato su tutti i lidi, su tutti gli ombrelloni. Gli stabilimenti bagnanti sono super attrezzati, la salvamento con i bagnini Ea H24 sul posto, smoto d'acqua, gommoni salvati, c'è tutta l'attenzione. Nella capa di riporto, le forze dell'ordine, abbiamo fatto un summit ieri mattina per mettere in piedi un piano di pronto intervento. Mi auguro che non ce ne sia bisogno. Una raccomandazione ai bagnanti, cerchiamo, diamoci una mano a vicenda e evitiamo gli assembramenti. Abbiamo perso le serate all'insegna della Movida, li abbiamo perse, va bene, ma non abbiamo perso l'allegria, lo spirito e di guardare al futuro. Padovano, tra l'altro se le previsioni meteo dovessero essere confermate, si prospetta un'estate allungata fino a ben oltre settembre? Beh, quello sarebbe il top. Fare il settembre al recupero del mese di giugno per noi è il top. Se vogliono venire al mare, hanno pagato fino al 9 settembre, noi gli daremmo gratis fino a tutto il mese di settembre. purché la gente possa venire al mare e trovare la tranquillità, trovare i servizi, il sorriso, l'accoglienza, la benevolenza. D'altronde noi viviamo, mi viene la pelle d'oca a dire queste cose, viviamo di un turismo di prossimità. Noi non abbiamo turisti che vengono dalle altre regioni. Noi abbiamo sempre campato col turismo abruzzese. Grazie. Grazie. Grazie.